Io di casacca non direi, appunto scuole di pensiero sulla mia fuoriuscita, io sono stata buttata fuori da quel gruppo politico per mano di Beppe Grillo che ha scritto una lettera sul suo blog, ratificata quella lettera da Sant'Angelo all'epoca allora capogruppo, che scriveva e mi assegnava al gruppo misto, non c'è stata né un'assemblea né un'autazione. Non si butta fuori un senatore da un gruppo politico quando non ha compiuto niente se non per orare o all'interno del gruppo dire che certe cose non andavano bene, quindi questa è stata proprio una cosa fatta veramente con i piedi potrei dire. In tutti i casi, come ho già detto all'inizio, aderire al progetto Italia dei Valori significa aderire a quei valori sui quali il movimento si è fondato, il movimento è stato un copia in colla dell'Italia dei Valori, conseguentemente ritorno all'origine, ritorno alla copia originale invece che alla fotocopia, tutto lì.